Siamo andati veramente fuori di testa, perché siamo andati oltre le 40.000 visualizzazioni e oltre i 7.000 like in questo momento che vi parlo. Sono passate circa 12 ore dalla pubblicazione del video, perché sì, l'ho pubblicato stanotte alle 2, alle 2.30, una roba del genere. E quindi 12 ore dopo abbiamo dei numeri da capogiro e di questo vi ringrazio. Però significa anche che eravate veramente molto curiosi di sapere qualcosa su Cobmeiners e siete tuttora molto curiosi di sapere. Cristiano Giuntoli, che cosa farà in questo calcio mercato della Juventus? Ormai gli occhiali io li metto in tutti i video. Da quando sono arrivati questi occhiali e si stanno sbloccando le trattative, il calcio mercato della Juventus sta prendendo la piega giusta. Quindi io non mi fermerò per cabala, non per cabal, ma per cabala. E a proposito di cabal, oggi Giuntoli era presente alla presentazione di cabal. Quindi magari sta facendo un po' di chat su Whatsapp o delle videochiamate e robe del genere. Però dobbiamo parlare, per forza di cose, permettetemelo, dobbiamo parlare della polemica che si è scatenata sulla Juventus. Oggi c'è un tornado sulla Juve da parte degli utenti, da parte dei giornalisti anche, di alcune squadre. Ci sono veramente un sacco di persone che oggi sono arrabbiatissime. Non è mica solo tifosi dell'Atalanta. Perché il tifoso dell'Atalanta lo posso anche capire, lo posso comprendere. Si sentirà deluso dal comportamento del giocatore, eccetera, eccetera. Mi fanno ridere quelli che proprio non centrano niente con l'Atalanta. E che non centrano niente con la Juventus. Polemica, polemica, polemica. Parto dal chiarire quello che vi ho detto ieri sera. La Juventus stessa si è ritrovata in questa situazione due settimane fa. Con Sule voleva soltanto la Roma. All'estero c'erano altre richieste, anche più alte dal punto di vista del cartellino. Sule voleva solo la Roma. La risposta che mi danno è Eh vabbè, ma con Mainers non era stato messo in vendita. Sule invece era un giocatore in vendita. E fatemi capire bene la differenza tra queste due cose. Sempre un contratto c'è che va a regolamentare il lavoro del calciatore. C'è la società che al contratto detiene il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Che su lei sia stato messo sul mercato, che su lei sia stato considerato incedibile, questo non cambia. C'è un contratto e la Juventus deciderà poi a chi dare il giocatore. Quindi il contratto vale, uguale, non cambia niente. Poi il calciatore avrà diritto ad avere delle altre preferenze. Quindi Roma piuttosto che Leicester. E quindi la Juventus cerca di andare incontro. Anzi, la Juventus è stata anche molto incontro. È andata a prendere anche meno soldi dalla cessione del calciatore pur di fargli questa cortesia, di fargli questo favore. Perché? Perché la Juventus aveva detto Ok, tu sei un giocatore che deve trovarsi una nuova sistemazione e quindi almeno ti do il diritto di scegliere la squadra che preferisci. La Juventus è stata anche molto morbida con Sule. Avrebbe potuto essere ben più antipatica della serie e decido io, vai dove vi danno più soldi. Però ci si viene incontro. Perché si fa calcio mercato e bisogna essere contenti tutti. La squadra che compra, la squadra che vende, il giocatore e i procuratori. È una cosa abbastanza normale. Oggi, in un video breve, vi ho parlato di De Litt e Ronaldo. Io non mi ricordo tante persone che si sono addirate con De Litt e Ronaldo quando hanno fatto i diavoli a quattro pur di andare via dalla Juventus. Perché me lo ricordo De Litt che è andato via a 67 milioni di euro più bonus. E la Juventus, il giorno dopo, non dico tutti, ma quasi questi soldi li va a reinvestire su Bremer. Perché De Litt voleva andare al Bayern. Cioè non c'era modo di convincere. Voleva andare al Bayern. La Juventus e De Litt non l'avevano messo sul mercato. A differenza di Sule. Stesse situazioni con Mainers. De Litt, la Juventus se lo voleva tenere. Il giocatore voleva andare via. E quindi si è arrivati a questo tipo di accordo. Si è andati anche ad abbassare quella che probabilmente era la richiesta della Juventus per il cartellino. È stata una cessione lampo e quei soldi sono stati reinvestiti secondo me anche in maniera eccessiva sul cartellino di Bremer. Perché si poteva trattare anche in maniera migliore probabilmente per cercare di assicurarsi Bremer un po' prima e risparmiare qualcosa. Ma è andata così. Non ci si può fare niente. Qualcuno mi ha detto ma con De Litt ha fatto plus valenza quindi dovrebbe essere contenta. L'Atalanta farà plus valenza con Cobeners quindi dovrebbe essere contenta. Quindi dove sta la polemica in questa roba qui? CR7 io non me lo dimentico perché qualcuno potrà dimenticarselo. Ma a me Cristiano Ronaldo mi ha dato molto fastidio perché il tifoso ripeto capisco il tifoso dell'Atalanta ha ragione è deluso io sono stato molto deluso da Cristiano Ronaldo sapevo che era la sua scelta poteva scegliere la sua carriera può fare quello che vuole poi rimango deluso al comportamento professionale. Cristiano Ronaldo la prima partita quindi quella di Udine se la fa in panchina mica perché Allegri decide di tenerlo in panchina perché lui c'aveva in testa da andare via e non solo la prima anche l'ultima ragazzi l'ultima partita dell'epoca Pirlo quella che decide se la Juventus va in Champions oppure no e si conclude col gol di Faraonia contro il Napoli e la vittoria per la Juventus per 4-1 sul Bologna in trasferta le ultime due trasferte che stanno orando la Juventus Bologna e Udine Ronaldo parte due volte dalla panchina Udine entra fa gol in fuorigioco millimetrico l'anno 1 eccetera eccetera a Bologna non entra neanche con la Juve che l'ultima giornata ha conquistarsi la Champions stiamo parlando di Cristiano Ronaldo non si può mettere buttare la croce su Cristiano Ronaldo per quale motivo anche il comportamento di Ronaldo è stato scorretto nei confronti della Juve dagli occhi del tifoso pur la Juventus l'ha accontentato Ronaldo non sapeva nemmeno se andare al City o lo United lui è partito per l'Inghilterra aveva già tutto pronto prima sembra dover andare al City poi è arrivato lo United è andato lo United e la Juve non si è opposta ha accettato un'offerta anche ridicola al ribasso per Ronaldo e poi è andata a reinvestirli su Ken ancora di più facendo un errore di calcio mercato perché? perché il giocatore di punto in bianco con il campionato già iniziato ha detto io me ne vado e si è cercato di accontentarlo però lì non ho letto tanti tifosi delle altre squadre puntare il dito contro il Cristiano Ronaldo e dire oh che brutta cosa aveva fatto nei confronti della Juve anzi c'era gente che rideva perché la Juve aveva venduto Ronaldo e preso Ken giustamente perché è un'operazione folle sono d'accordo però tante critiche tante polemiche io non le ho lette ma magari sono stato poco attento la volontà dei calciatori è forte ragazzi cioè è inutile girarci intorno questa cosa qualcuno mi dice sì però per Cassi aveva detto che Cobainers era incedibile che lui aveva detto che Sule valeva 40 che Wysen valeva 30 che Ronaldo rimaneva eccetera eccetera pure avete visto poi come sono andate queste cose la società può dire quello che vuole per Cassi può dire quello che vuole può valutarlo 150 milioni di euro può dire che lui rimane al 100 può dire tutto quello che vuole per Cassi è libero di dire tutto quello che vuole però poi deve anche ricordarsi deve fare un esame di memoria deve andare a scavare un po' nel passato e ricordarsi che a maggio 2024 Theon Cobainers tesserato dell'Atalanta è andato ai microfoni pubblicamente e ha detto ragazzi mio ciclo a Bergamo è finito questa sarà la mia ultima stagione e poi me ne vorrò andare io all'epoca non pensavo nemmeno potesse essere la Juventus la squadra di Cobainers io ero convinto che potesse andare in Premier la Juve è stata brava a scavare da quella cosa lì è stata brava a parlare con gli agenti a trovare disponibilità a trovare il gradimento a trovare l'accordo la Cobainers aveva già detto pubblicamente a maggio a maggio Cobainers dice pubblicamente per Cassi non può essersi dimenticato questa cosa capisco che possa avere tanti pensieri per la testa preparare una stagione nel calciomercato l'infortunio di Scamacca l'arrivo di Reteghi ci saranno state tantissime cose sicuramente però non può dimenticarsi che il suo fior all'occhiello il suo giocatore di punta pubblicamente va a dire guardate io me ne vado da qui poi lui può dire quello che vuole può dire che nei piani di Atalanta non c'era l'accessione di Cobainers perfetto nei piani di La Juventus non c'era l'accessione di De Litt pure è accaduta nei piani di La Juventus non c'era l'accessione di Ronaldo eppure è avvenuta e che cosa facciamo? quando li vede cedere ma poi io voglio dire è bello allora mettiamola dall'altra parte perché qua si sta facendo passare con Meners per il giocatore che l'ha messo in croce e ripeto dal punto di vista il tifoso dell'Atalanta per me è legittimo perché è il tifoso irrazionale è logico che il tifoso ragioni di pancia ragiona per amore nella maglia ci mancherebbe altro però la società Atalanta si comporta bene allora a far la guerra a un giocatore che aveva espresso la volontà di andarsene da una dimensione in realtà come Bergamo dopo una qualificazione storica in Champions e dopo un'Europa League vinta cioè un giocatore che vince l'Europa League con l'Atalanta e ha la possibilità di andare in una squadra che lui considera più ambiziosa deve essere visto come un pazzo o deve essere visto come un giocatore che ha dato tutto per la maglia è andato in doppia cifra di gol e di assi è stato il centrocampista più prolifico in Italia nell'ultima stagione è arrivato a conquistare l'Europa sia per giocare la Champions sia per alzare al cielo un titolo europeo con l'Atalanta cioè deve essere visto come un matto come un bastardo deve essere visto come un problema o semplicemente come un'evoluzione naturale dei fatti magari arriverà il giorno che con Mainers forzarà la mano e vorrà andare al Manchester City e farà la stessa cosa con la Juve io vi dirò da tifoso vi dico che mi dà fastidio ma capisco con Mainers quando è arrivato all'Atalanta la Z magari avrà forzato la mano anche lì però lì probabilmente il tifoso dell'Atalanta giustamente non l'aveva etichettato come il mercenario vi ha detto oh che bello un giocatore che vuole sposare il progetto dell'Atalanta perché poi è sempre un discorso di punti di vista non gioca la Supercoppa Europea ragazzi questo è un danno incredibile per l'Atalanta dal punto di vista sportivo cioè non prendiamoci in giro però vi provo a dare un altro point of view è una partita storica è Atalanta Real Madrid Supercoppa Europea non so quante altre volte nella storia vedono questa partita forse mai questo non mi fa capire anche quanta voglia abbia il ragazzo di arrivare alla Juventus è disposto a rinunciare a questa cosa qui io non so quante altre Supercoppe Europee giocherà con Benersi in carriera maggior ragione venendo la Juventus non vinciare la Champions dal 96 ok quasi 30 anni che non vinciare la Champions probabilmente l'unica occasione che ha di giocare la Supercoppa Europea è nel momento migliore della sua carriera perché nell'età in quel momento migliore della sua carriera capite anche lo sforzo che fa il sacrificio che fa a forzare la mano oggi sapendo di rinunciare a quella roba lì pur di arrivare nella squadra che per lui è ideale nel proseguire la sua carriera non guardiamolo solo come è uno stronzo che crea un donno all'Atalanta perché lo fa però cerchiamo anche di metterci nel pane di un giocatore che arriva in una dimensione come Bergamo fa il massimo si crea un nome perché Gasperin lavora bene l'Atalanta lavora bene per Cassi lavora bene tutti quelli che ha lavorato all'Atalanta ha lavorato bene lui stesso ha lavorato bene e dopo aver concluso questi anni meravigliosi all'Atalanta dice ragazzi io me ne voglio andare ma prima ancora di vincere l'Europa League figuriamoci dopo che vorrà rimanere con quel ricordo meraviglioso di quella vittoria storica storica contro una squadra che non aveva nemmeno mai perso in stagione contro quella che era probabilmente la squadra rivelazione più bella di tutta la stagione l'Atalanta ha fatto un'impresa incredibile ha fatto qualcosa di assurdo per Cobbmaners quelli saranno ricordi indelebili come per tutti i tifosi dell'Atalanta avrà il diritto di dire il mio ciclo qui è finito voglio andare da un'altra parte sì o no per Cassio vuol tenere benissimo però non fai quello che dovrebbe fare un buon presidente perché tutti i calciatori arrivano a un punto della carriera che capiscono che lì non hanno più intera dare voglio andare da un'altra parte cioè fatemi tre nomi davvero vi sfido fatemi tre nomi di giocatori che volevano andare via pubblicamente hanno detto me ne vado e invece poi sono rimasti felici contenti e messi al centro del progetto io vi sfido a trovarmi tre nomi di giocatori che hanno fatto così e qualcuno mi dice eh però non si può parlare col giocatore prima di trovare l'accordo con l'Atalanta ragazzi ma Pavar che l'anno scorso ha forzato la mano col Bayern per andare all'Inter ma nessuno aveva detto niente voleva andare all'Inter gli agenti hanno parlato con i dirigenti dell'Inter i dirigenti di ogni squadra parlano ogni giorno con milioni di agenti con tutti quelli che ci sono gli agenti propongano gli assistiti perché magari rende le situazioni di disagio si cercano degli apprezzamenti e poi nascano delle trattative se queste trattative sono possibili allora si interpella anche il club poi è ovvio che non sempre si segue l'Inter perfetto la Cobbeners aveva detto pubblicamente che se non voleva andare un po' per Cassi oggi svegliarsi bello come il sole dire ma io avevo detto che era incedibile ma perché se non vuole andare davvero ah ma non era una battuta no non è così e penso che in queste settimane mesi e giorni dentro Zingonia l'Atalanta eccetera eccetera negli uffici della Dea si sia affrontato più volte questo argomento poi lui può chiedere anche 150 milioni però poi il giocatore giunto a questo punto avrà in testa di provare una strada alternativa per cercare di coronare il suo sogno a tal punto di rinunciare a giocare a quella che secondo me sarà a mani basse la partita più importante della sua carriera fatemi sapere come la vedete questa cosa ho provato a darvi anche l'altro punto di vista ditemi tutto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video